Si è sempre detto, nei secoli, che senza sacrificio non può esserci vittoria. Due specie in guerra, una di carne, una di metallo, Optimus Prime ci ha lasciati. Due specie in space, everyone you know, someday, will turn around. Voglio restare e voglio combatterli. Ora, due mondi si scontrano. L'operazione è finita. Non ci arrenderemo, ok? Ne sopravviverà uno. L'operazione è finita.